La saga di Mortal Kombat è tra la mia preferita in assoluto, ma soprattutto quelli in versione arcade, ovvero i classici Mortal Kombat, sono quelli che preferisco maggiormente di più e adesso vi farò vedere quello che ho acquistato per il Game Boy. Round 2, Fight! Round 3, Fight! Round 3, Fight! Finishing! You suck! Round 3, Fight!